8 siti del centro storico della città raccontati da un file audio, immagini e testo e il terzo occhio progetto promosso dalla fondazione CRC ideato e realizzato dalle scuole cittadine informazioni turistiche accessibili tramite QR code dal proprio smartphone oppure dal sito www.lterzoocchio.it a sperimentare il percorso per primi decine di bambini della città che hanno giocato a squadre lungo 5 delle 8 tappe motto del pomeriggio, la storia si può imparare anche giocando Istituto Soleri di Cuneo che ha ideato questo progetto, il terzo occhio, oggi le vie del centro storico di Cuneo invase da tantissimi bambini, qual è l'obiettivo? L'obiettivo è che i ragazzi conoscano la loro storia e in generale le memorie della loro città che sono legate a dei luoghi, quindi in molti casi a dei palazzi ma in molti casi anche a degli eventi che sono accaduti a dei personaggi e quindi l'idea è quella che questo progetto aiuti un po' a ispirare la memoria del quotidiano che noi spesso dimentichiamo e ignoriamo della nostra città e vorremmo che i ragazzi studiando questi documenti, rendendoli fruibili a tutti, usando le nuove tecnologie potessero intanto riscoprire la loro storia e poi farla conoscere agli altri e condividerla, in questo modo custodirla per il futuro. Itis del Pozzo, qual è stato il ruolo all'interno del terzo occhio? Ha dovuto realizzare il sito che è un sito che è fruibile sia da smartphone che da desktop e ha raccolto quindi tutto il materiale, ha realizzato le singole pagine e poi per ciascuna pagina ha realizzato il QR code in modo che chiunque appunto trovando la palina in giro che riporta questo QR code facendo la fotografia può accedere direttamente alla pagina del monumento, del personaggio, del sito e quindi ascoltare o leggere il testo, in più ci sono delle immagini, delle foto e con le varie spiegazioni. Per usufruire dei servizi del terzo occhio innanzitutto bisogna avere sul proprio smartphone, non importa se Android o iPhone, il servizio QR code. Lo si apre, ci si avvicina al QR code, si fa una sorta di fotografia e si apre il pannello relativo all'edificio, al palazzo che ci troviamo di fronte, in questo caso palazzo barra di ferro. In alto c'è l'audio per chi non ha voglia di leggerlo, per chi ovviamente non può leggerlo, ci sono le foto e poi c'è la descrizione del palazzo, dell'edificio, del monumento. La prima lingua visualizzata ovviamente è l'italiano, per i turisti stranieri è possibile anche leggerlo poi in francese o in inglese, selezionando l'apposita opzione presente nel menu generale del terzo occhio.